Ok, eccoci. Ciao a tutti, io sono Fabio, oggi mi è arrivato un nuovo pacco e non vedo l'ora di aprirlo con voi. L'ultima pianta che ho ordinato è un Anturium clarinervium. Come potete vedere è cresciuta, questa qui era la foglia piccolina. Qualcosa mi dice che le foglie escono in questo modo e poi si gonfiano davvero tanto. E adesso è diventata abbastanza grande. Quello che mi è piaciuto di questa pianta, oltre ovviamente all'aspetto estetico, insomma queste venature, sono pazzesche. E anche la sensazione al tatto, questa sorta di velluto. Sapevo dell'esistenza di un'altra pianta vellutata che fa delle foglie molto belle. E adesso la apriamo. Questa pianta l'ho ordinata dal sito plenz, 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 punto com, plenz, senza la A. Planz. Ok, si pronuncia comunque plenz a quanto pare, anche se scrivo plenz. Bene, ora che sappiamo come si chiama il sito, apriamo questa scatola. La paura è sempre quella di tagliare delle foglie con il coltello. Ovviamente non mettono mai le foglie in corrispondenza di dove uno va a tagliare. Credo. Oh mio Dio, ma quanto sono carini. È bello vedere queste cosette, cioè non sono necessarie, insomma, però sono carine, cioè guardate. Ci sono delle cose, delle informazioni. Via! Ok, carta. Questo è l'impacco caldo. Ho fatto aggiungere un impacco caldo, boh, per questi giorni si fa un po' freddino, adesso non è più caldo. Vedo già qualcosa che non mi piace in realtà. La scatola è piccola per lei, è un po' storta. Non so se si vede, ma è piegata. E vedo la punta della foglia nuova che... Vabbè. È un po' meh. Vabbè. Ok. Questo qui è un philodendron melanocrisum. Le foglie sono vellutate di un verde abbastanza scuro, mentre le venature sono verde chiaro. Inizialmente hanno questa forma piena, ma col tempo, quando la pianta matura, formerà delle foglie più allungate. Guardate quanto è elegante. Mamma mia. E questa è la foglia più vecchia, un po' più bruttina, segnata da chissà quali avventure. Sono contento che abbiano questi impacchi qua, per proteggere la pianta. Però per questo caso, non so se vedete, ma questa punta non ci sarebbe stata. Ora, può essere che la pianta sia cresciuta durante il viaggio. In genere, quando c'è una nuova foglia di queste piante qui, anche con le mostere, anche tante altre piante, crescono molto velocemente. Quindi, anche un centimetro al giorno. Quindi ci sta che magari quando è stata spedita, era alta così e quindi ci stava perfettamente. Il problema è che le foglie nuove sono sempre molto, molto delicate. Quando facevo lo scemo con la mostera, quando usciva una nuova foglia che provavo a farla andare dove volevo io, perché volevo giocare ad essere Dio, nel giro di qualche ora vedevo delle ammaccature. Mentre le foglie dopo diventano resistenti, quando si stanno formando, quando stanno uscendo, sono molto tenere, quindi non toccatele. Quindi per questa cosa non sono soddisfatto. Cioè, mi ha un po' deluso. Avrei voluto un po' più di cura nei confronti della nuova foglia emergente. Inoltre, questa qui, la foglia più vecchia, era tipo piegata in questo modo. Cioè, perché? Ah, ok, perché la scatola è fatta in questo modo. Quindi doveva essere in qualche modo girata. Vabbò. Magari sono troppo severo io. Insomma, la pianta fondamentalmente sta bene. La nuova crescita, a parte questa, sarà molto buona. Sperando tutto vada bene. Però vorrei farvi vedere un po' il danno che ha. Insomma, non è carina come cosa, eh? E dopo qualche giorno è diventata una monstera. Comunque, questa pianta qui è ancora piccola. Queste foglie non sono mature. Cioè, queste resteranno così, eh? Però le foglie mature possono diventare molto, molto grandi. Fanno come degli scudi. Cioè, sono, wow, molto belli, molto eleganti. A distanza di qualche giorno ho deciso di costruire un palo muschiato che possa incoraggiare il melanocrisum ad arrampicarsi e fare foglie più grandi. Ho utilizzato una rete di plastica dello sfagno secco e dello sfagno vivo. In questo modo le radici aeree che escono in corrispondenza dei nodi cresceranno all'interno del palo. Cerco di mantenerlo il più umido possibile per permettere sia al muschio di sopravvivere ma anche al melanocrisum di prendere dell'acqua dal palo. La terra mi sembra piuttosto bagnata, quindi non le darò dell'acqua anche se c'è scritto di darle da bere appena arriva. E io vorrei controllare un attimo le radici. Sfilati. Ok. Tante radici. Davvero tante. La terra è davvero umidissima, quindi quello che farò... C'è anche sto prezzemolo qua. Chissà se è una piantina rara. Sembra prezzemolo. La lascio lì. Comunque la terra è umidissima. La terrò in un punto bello luminoso. Ricordiamoci che più luce prende la pianta e più beve. Comunque uno non si deve aspettare di avere una pianta chissà quanto perfetta all'arrivo. Insomma, questa sorta di danni possono capitare, è normale. Specie con una pianta abbastanza grande e delicata come questa qui. Quello che è importante è che la pianta sia in generale sana. Le radici stanno benissimo, quindi la nuova crescita, a parte questa, sarà molto molto buona. Sono soddisfatto di aver preso questa pianta. Bene, l'unboxing si conclude qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!